Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. E' giallo sui canoni di locazione applicati dallo IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari. Avrebbe percepito per anni somme superiori al dovuto. Ad affermarlo è la denuncia di un inquilino che si è rivolto alla magistratura e alla base del caso una erronea determinazione della rendita catastale. La vicenda potrebbe riguardare numerosi inquilini configurando un indebito arricchimento dell'ente. Ma sentiamo Pasquale Di Bello. E' giallo sui canoni di locazione percepiti dall'Istituto Autonomo Case Popolari. A sollevare il caso davanti alla Procura della Repubblica di Campobasso è stato l'esposto denuncia di un inquilino, il signor Pasquale Luciani, che per anni si è visto attribuire una rendita catastale superiore a quella dell'immobile occupato e un canone a suo dire superiore rispetto a quello dovuto. Inoltre, secondo quanto afferma il signor Luciani, quella sulla rendita catastale non è l'unica pecca, emergendo dalla corposa documentazione allegata al suo esposto una serie di incongruenze che riguardano la posizione dell'immobile, la sua classe e la metratura, un ginepraio burocratico nel quale l'interessato si è dibattuto per anni sino a ricostruire l'intera vicenda e a sottoporla all'attenzione del giudice. Sul profilo penale la Procura di Campobasso si è espressa per la insussistenza di fatti ritenuti penalmente irrilevanti, ma essa stessa, la Procura, non esclude, secondo le parole del sostituto procuratore Vittorio Gallucci, che si è occupato del caso, la possibilità di un indebito arricchimento dell'ente. Ogni doglianza, scrive il magistrato nella sua richiesta di archiviazione, potrà essere fatta valere nelle competenti sedi amministrative e civili. Il caso quindi resta aperto. La vicenda, o meglio la scoperta, porta alla data del 2014. Quell'anno il Governo nazionale introduce la TASI, tassa sui servizi indivisibili dovuta da chiunque e a qualsiasi titolo occupi un immobile. La TASI è commisurata alla rendita catastale, cosa che spinge il signor Luciani a verificarne l'entità presso l'ufficio provinciale del Catasto di Campobasso. Con somma meraviglia, Luciani scopre che la rendita dell'abitazione che occupa è pari a 298,25 euro e non ai 426,68 comunicati dallo IACP. Le note stonate, man mano che Luciani scava, sono anche altre e le scoperte si susseguono. A non quadrare non è solo la rendita. Non quadra, ad esempio, il piano. Luciani vive a pian terreno e lo IACP invece attesta che vive al piano intermedio con tanto di balconi. Non quadra la classe abitativa, originariamente di categoria A4, è trasformata in A3. Non quadra la superficie, che al Catasto risulta di 80 metri quadri e che invece risulta secondo lo stesso IACP di 57 metri quadri più 8 di cantina e 1,5 di superficie verde condominiale. Non quadra anche un'altra cosa. L'appartamento in questione è stato venduto dall'IACP ad un terzo soggetto e senza che Luciani ne abbia saputo alcunché. Quello che però non quadra più di tutto è il canone di locazione che afferma l'interessato è stato calcolato in base a dati erronei. Alla richiesta di rimborso l'IACP risponde picche, opponendo, tra le altre cose, la prescrizione per la restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso. Le domande, in conclusione, sono diverse. Innanzitutto, quanti inquilini nel corso del tempo sono stati oggetto di errori e di eventuali canoni maggiorati? E poi, l'eventuale indebito arricchimento dell'ente, a quanto equivale e soprattutto dove è finito? E stamattina visita a Campobasso della ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, che ha visitato alcuni istituti scolastici della città. Priorità al giusto riconoscimento del ruolo degli insegnanti e alla sicurezza degli edifici scolastici, ha detto. Ma sentiamo Anna Maria Di Matteo. È stata accolta dai bambini festanti della scuola primaria con palloncini colorati come la bandiera italiana. La ministra per l'istruzione Valeria Fedeli è stata a Campobasso per incontrare gli operatori del mondo della scuola, insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA. La mattinata è iniziata la scuola Montini, dove la Fedeli è stata accolta dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Sabatini e della dirigente scolastica Antonelli. A loro arrivo, nell'atrio della scuola, le note dell'inno di Mameli suonate dall'orchestra. La ministra ha visitato la struttura, le aule, i laboratori, poi l'ha affollato incontro con i giornalisti. Ho mantenuto l'impegno, anche se questa mattina alle 9.30 c'era il consiglio dei ministri, perché, diciamo, anche per scelta, quando hai un impegno soprattutto dentro le scuole, per andare a vedere lo straordinario lavoro che viene fatto, dalle docenti, dai docenti, da tutto il personale scolastico, anche dal personale amministrativo, ovviamente dalla dirigente, ovviamente dalla dirigente regionale, per me è un punto fondamentale, perché vuol dire andare a toccare con mano quanta qualità, qualità didattica, qualità formativa c'è nelle scuole italiane e di questo poco si racconta. La Fedeli ha ricordato l'impegno messo in campo dal governo anche in favore della scuola molisana. Devo dire onestamente che negli ultimi tre anni gli investimenti, che vuol dire, voi sapete, in una situazione di crisi, di difficoltà economica, aver scelto di investire economicamente, su che cosa? Non solo sulla trasformazione e passo dopo passo dobbiamo arrivare davvero a eliminare tutto il precariato. La seconda cosa, abbiamo investito in innovazione qualitativa della formazione dei docenti. C'è il tema anche di non poter continuare ad avere un blocco dei rinnovi contrattuali di più di otto anni. Vale per tutte le figure della scuola. Lo dico per serietà, non è così negli altri paesi differenziali. Ci sono. L'altra cosa che abbiamo fatto è che abbiamo investito moltissimo, non era mai successo prima, anche sull'edilizia scolastica. So che tocco un tasto delicato qui, però se mi posso permettere, guardate quanti investimenti sono stati fatti, quanti interventi sono stati fatti e anche con la riattivazione dell'osservatorio nazionale, che non c'era da vent'anni. Una scuola che deve includere, ricordato la ministra, che ha elogiato il lavoro svolto all'interno delle scuole molisane. Qui mi rafforza ancora di più che cosa significa fare la scuola, che per essere scuola deve essere una scuola inclusiva, in cui le differenze sono un valore per tutti. Le diverse disabilità non sono ti inserisco, ma non cambia nulla nell'insieme dell'ambiente scolastico. È un'altra parte dell'apprendimento, la capacità di stare e di costruire relazione positiva, conoscenza, con le diverse situazioni di diversità. Guardate che è il più potente strumento formativo, ma anche di costruzione di cittadinanza nazionale, europea e globale. La visita della ministra è proseguita a Lita Spertini e con un incontro con i dirigenti scolastici della regione. Momenti di paura nella zona di Rio Vivo a Termoli. Un incendio è divampato lungo il costone che attraversa la strada di accesso alla città. Le fiamme si sono propagate per cause da accertare tra le sterpaglie e gli alberi, a pochi metri dalle case dove vivono numerose famiglie. Fumo e disagi sia in via Corsica che sulla parallela di Rio Vivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni nei vari punti interessati dal rogo, impiegando anche un elicottero e le squadre di Termoli e Campobasso. Monitorata la linea ferroviaria adriatica, rimasta chiusa per consentire gli interventi. Un altro incendio ha investito la zona della marina di Montenero di Bisaccia. E assalto nel Foggiano ad un furgone carico di sigarette partito in mattinata da Termoli. Una banda armata di fucili ha raggiunto il portavalori, scortato da un'auto guidata da una guardia giurata e ha costretto i due conducenti a fermarsi. I tabacchi sono stati trasferiti su un altro furgone. Il commando, composto da cinque persone incappucciate, è fuggito nella zona di San Nicandro Garganico. Dalle prime informazioni non sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco, non ci sono stati feriti, indagano i carabinieri della compagnia. E nonostante l'appello di Massimiliano Scarabbeo e la promessa di frattura di varare l'agenzia regionale, il Consorzio Industriale di Sernaverafro ha proceduto alla rielezione del suo comitato direttivo dopo 15 anni di commissariamento. Enzo Di Gaetano. Consorzio Industriale, niente da fare, è passato in ascoltato l'appello lanciato a frattura da Massimiliano Scarabbeo con l'invito al governatore a mantenere la parola data e varare l'agenzia regionale di sviluppo. Ieri sera è stato così eletto il nuovo comitato direttivo del Consorzio Industriale di Sernaverafro, cinque sindaci che si sono votati a vicenda tra loro. Non c'è stato verso il Presidente della Regione Molise, spesso o quasi sempre, fa l'esatto contrario di quel che promette. Infatti, invece di abbattere i costi e unificare i servizi e strutture dei tre consorzi industriali, ha invitato il commissario del nucleo di Pozzilli, Stefania Passarelli, a convocare le elezioni e nominare così un nuovo direttivo. Tradotto in cifre, dopo 15 anni di tagli e commissariamento, in attesa di una legge di riforma che non verrà mai, il Consorzio di Sernaverafro ritorna i costi e alle indennità di 15 anni fa. Costerà lo stesso anche se i comuni aderenti sono passati da 18 a 7 e anche se al nucleo industriale di Pozzilli sono più i dipendenti che le industrie iscritte al Consorzio. Insomma, una sovrastruttura politico-burocratica che servirà ad alimentare solo se stessa. Ma le brutture di quanto deciso ieri sera a Pozzilli non si limitano solo al ritorno alle spese allegre di decenni fa. Infatti, se raccontiamo la storia di quanto accaduto, le perplessità si sprecano. A partire dal giorno di confocazione, lo stesso dell'udienza del Tar sull'inceneritore, e ancora, presente alla riunione quasi carbonara, solo sei sindaci, cinque d'accordo tra loro a votarsi a vicenda, con un solo oppositore, Antonio Sorbo, che più volte ha chiesto il rinvio della seduta, anche appellandosi al fatto che ancora non è stata ratificata la nomina dei revisori dei conti indicati dalla Regione. Niente da fare, i cinque sindaci si sono autoeletti e non importa che anche i polli rideranno di un comitato direttivo formato da cinque membri su un totale di sette comuni aderenti. In sostanza, un esercito formato da un generale, il presidente Stefania Passarelli, quattro ufficiali, i sindaci di Macchia di Sernia, Carpinone, Sesto Campano e Montoroduni, e due soli soldati, il sindaco di Venafro, Sorbo, che si è opposto da solo fino all'ultimo, e la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, diplomaticamente assente. Antonio Sorbo non ha partecipato alla votazione, e così i cinque rimasti si sono votati l'uno con l'altro. Una beffa, anzi una presa in giro per l'intera provincia di Sernia, che ha assistito a uno spettacolo degno, non certo della Prima Repubblica, ma del regno di Franceschiello. E non è finita qui perché, a dimostrazione della coerenza dei politici nostrani, il sindaco di Sesto Campano, Luigi Paolone, si è fatto eleggere assessore dopo aver deliberato con la sua maggioranza l'uscita dal consorzio per tagliare le spese dal comune. Ieri sera se n'è dimenticato, lui stava al consorzio a farsi eleggere assessore, mentre a Sesto Campano era in corso una riunione di maggioranza, prevedibili a breve sconquassi. Un altro fulgido esempio di buona condotta politica è quella del sindaco di Carpinone. Anche lui si è fatto eleggere, ma non ha partecipato al voto, perché il suo comune è in causa con il consorzio per le quote non pagate. Sostanzialmente era ineleggibile, ma hanno aggirato l'ostacolo eleggendolo come assessore esterno. Cosa dire di più? La politica dell'assalto alla diligenza ha dato, ancora una volta, una delle sue migliori rappresentazioni, a partire da Frattura, per finire con i cinque magnifici del consorzio industriale di Isegna Venafro. Stefania Passarelli, Mario Stasi, Luigi Paolone, Custode Russo e Pasquale Colitti. Presidente e assessore di un consorzio dove tutti comanderanno, con il solo sorbo a fare da oppositore. Il gruppo di minoranza al comune di Ferrazzano, composto da Maria Assunta Baranello, Vincenzo Damiano, Angelo Michele Lembo e Maria Rosaria Pasquale, dopo la condanna in primo grado, tra gli altri, del sindaco del paese Antonio Cerio, esponente del PD e Fratturiano, per la vicenda della raccolta di firme false per le regionali 2013, ha chiesto le dimissioni immediate e irrevocabili dello stesso Cerio. Mentre da Pollonio, il sindaco di Sernia, va in procura a segnalare che il comune da anni utilizza un regolamento di contabilità a fasullo, Giovan Carmine Mancini, esponente dell'Alleanza per il Futuro, torna all'attacco sulla questione dei migranti. Enzo Di Gaetà. La bomba è scoppiata in mattinata, insieme alla diffusione della notizia che il sindaco da Pollonio si è recato in procura, a segnalare che il comune di Sernia adotta un regolamento di contabilità che non è quello approvato dal Consiglio Comunale diversi anni fa. Una versione modificata, ma perché una cosa del genere sia successo, è un mistero, da qui la segnalazione alla magistratura. Intanto sulla polemica dei migranti, fa discudere l'appello lanciato da Giovan Carmine Mancini, che difende la scelta del comune di dire no allo Sprar e dà la sua disponibilità per affiancare l'amministrazione nell'opera di sorveglianza dei migranti e delle strutture che li ospitano. Giovan Carmine Mancini, no, ancora no allo Sprar. Ma come fermare allora questa ondata di migranti che sta invadendo i Sernia? Dopo aver sentito le tante fesserie dette dai democomunisti locali, molto radical chic, sono costretto a reintervenire. Cercano di fare populismo e terrorismo al contrario dicendo che arrivano mille migranti. Se il sindaco fa il suo dovere, se l'amministrazione fa il suo dovere e se il sindaco invece ha problemi di mero rispetto istituzionale, io dall'opposizione, rimanendo in posizione, dico non ti preoccupare perché rispetto istituzionale per me passa in seconda linea. Io rispetto soprattutto dei cittadini e della città di Sernia, come giusto che sia. Quindi me ne occupo io dei controlli sui CAT, della sicurezza e della salute dei cittadini di Sernini. Qual è il problema? E come si fa? Si fa appunto utilizzando i vigili, andando a fare i controlli all'interno dei CAT sui numeri delle persone, su chi realmente è ospitato, i quali status hanno e anche con l'ufficio tecnico fare altri tipi di controlli. Se sono idoni tecnicamente in linea con la normativa edilizia, queste strutture, che molto spesso sono case private trasformate in centri di accoglienza per poter ospitare ed essere adibiti a CAT nel momento in cui vengono meno questi requisiti, ma ce ne sono tanti altri. E immagino far intervenire l'ASRE, ma andare a vedere la sororabilità dei luoghi e tante altre cose. e come fanno i sindaci che non hanno aderito allo SPRAR, che sono il 90% dei sindaci italiani, quindi una ragione ci sarà, si segnalano che il prefetto è costretto a chiudere i CAT. Allora il rispetto sia soprattutto per la gente che si amministra e per la città che si governa. Quindi secondo lei sia la Prefettura che il Comune devono fare di più per controllare il fenomeno? La Prefettura assolutamente non sta facendo nulla. Il Comune per rispetto istituzionale fino ad adesso ha fatto ben poco. Lo ha ribadito anche il Sindaco che c'è questa sorta di problematiche che lui ha interiormente, lo posso anche capire per la formazione che ha di rispetto istituzionale. Io ho un'altra formazione, faccio l'avvocato perianista e faccio la politica sempre dello stesso movimento politico, sempre la stessa parte politica, da circa 40 anni. Il rispetto istituzionale per me viene in secondo piano, per me c'è il rispetto dei cittadini che ci hanno volato, che vogliono stare tranquilli, vogliono vivere sicuramente nella propria città. Tutto qua. A Civita Campomarano nasce il Comitato di Sesto Fronte Nord con l'obiettivo di far fronte alla gestione per gestire l'emergenza della frana in paese. Vediamo. L'obiettivo del Comitato di Sesto Fronte Nord di Civita Campomarano è partecipare democraticamente alle procedure di gestione dell'emergenza e programmazione degli interventi. 14 firmatari del Comitato Cittadino di Volontariato e Solidarietà. In prima fila c'è Don Angiolino Boccardo, parroco di Civita Campomarano e il referente Raffaele Giannone. I volontari chiedono a tutte le istituzioni che si stanno occupando del movimento franoso di ricevere informazioni sugli atti amministrativi. vogliono partecipare con propri delegati alle fasi decisionali che riguardano gli interventi. Sono pronti a garantire assistenza in qualsiasi cittadino danneggiato o non che contribuisca all'uscita dall'emergenza. Si dichiarano disponibili altresì ad avvalersi di tutte le consulenze tecniche, scientifiche e utili ad approfondire il fenomeno e a garantire l'incolumità dei cittadini. Vogliono in definitiva fungere da supporto a chi sta operando sul campo e nel contempo capire e contribuire alla rinascita del centro cittadino. Ma la finalità principale è quella di assistere e tutelare le singole persone. La collettività si legge nell'atto costitutivo danneggiate dall'evento calamitoso, fornendo supporto per le richieste di autonoma sistemazione, moduli abitativi d'emergenza, stime e risarcimenti in funzione dei singoli stati di consistenza dei beni. Nel contempo lo studio gestito dalla protezione civile e finanziato dalla regione con 280 mila euro va avanti e servirà a capire l'entità dell'evento. 30 in tutto gli edifici danneggiati che rientrano nella zona rossa, tra cui la storica casa di Gabriele Pepe e la sede del municipio. Poi c'è una zona blu che va monitorata con grande attenzione. Sette i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Alcune persone hanno suffruito della seconda casa, altre si sono appoggiate da familiari, altre ancora sono state collocate in una casa dell'OIACP. I carabinieri di Cantalupo del Sannio hanno fermato un trentenne rumeno residente in provincia di Caserta che trasportava in maniera illecita rifiuti speciali. I militari di Roccamandolfi hanno recuperato e sequestrato circa 20 chili di rame rubati alcuni mesi fa sulla linea elettrica ferroviaria. ed erano nascosti tra la vegetazione nei pressi di un casolare abbandonato. La difesa della Costituzione parte dai piccoli comuni. Il monito di Paolo Maddalena, presidente emerito della Corte Costituzionale, intervenuto nelle scuole di Porto Cannone dove è stato piantato un simbolico albero della legalità. Fabrizio Occhionero. Centinaia di ragazzi a lezione di legalità un messaggio forte che parte dalla scuola di Porto Cannone dove è stato piantato un albero che rappresenta un monito per le nuove generazioni. Legalità che mette radici in un luogo frequentato dai più giovani e ricorda anche l'impegno di chi si è battuto per costruire un paese migliore. Il nostro modo di procedere è quello di laboratorio attivo quindi non soltanto attraverso la conoscenza che è fondamentale per perseguire gli obiettivi della legalità ma anche attraverso la pratica. Noi come scuola abbiamo messo a punto anche un regolamento di istituto a cui i ragazzi ogni anno glielo facciamo studiare, glielo facciamo ripetere oltre alla Costituzione e alla Carta Costituzionale. All'iniziativa ha partecipato Paolo Maddalena, presidente emerito della Corte Costituzionale che ha rivolto un messaggio ai ragazzi evidenziando anche il ruolo di una piccola comunità nella difesa della legge fondamentale dello Stato. A mio avviso la Costituzione italiana è stata salvata e ravvivata dal referendum del 4 dicembre. Non ci si può più dire la Costituzione è vecchia di 70 anni e bisogna cambiarla. Bisogna far valere la Costituzione che è una cosa che viene dal basso, viene da tutti i cittadini, viene dai comuni. Io mi sto praticando molto a sollecitare tutti i comuni a fare in modo che la democrazia si attui nei piccoli centri. Porto Cannone è un centro ideale per l'attuazione della Costituzione. L'evento è stato organizzato dalla Scuola di Legalità Don Peppe Diana e dal Comune di Porto Cannone e l'auditorium si esibita anche l'orchestra giovanile della scuola. Prosegue quel progetto iniziato tre anni fa che è Legalità Benecomune. Abbiamo piantumato già alberi in altri comuni quali Larino, Campobasso. È un momento bellissimo perché parteciperanno anche se non presenti anche Salvatore Borsellino e Maria Falcone che hanno inviato un loro saluto che leggeremo proprio in questo contesto perché l'albero, la magnolia è proprio dedicato alle vittime della criminalità organizzata. Questo è soltanto un percorso che avevamo già previsto nel nostro programma elettorale di educazione alla cittadinanza attiva perché i ragazzi che adesso sono seduti in quei banchi poi saranno i futuri cittadini e i futuri amministratori di questo posto. Ad Agnone dopo otto anni di totale abbandono è stato rimesso a nuovo il belvedere nel rione San Marco. I lavori sono stati effettuati grazie al Comune e ai volontari del Comitato San Cristinziano. I volontari hanno pulito e rimosso arbusti e hanno eliminato i segni dell'incuria. e intanto fervono i preparativi per la festa del Patrono San Cristanziano sabato alle 11.30 nella chiesa di San Marco si terrà una messa solenne e a seguire sono previste delle iniziative alla fonderia delle campane marinelli nel pomeriggio la processione mentre in serata è in programma l'esibizione di Maurizio Vandelli. E come da tradizione ogni anno a San Giuliano del Sannio si è svolta la suggestiva festa di San Nicola tra fede e storia. e la tradizione dei fucilieri. Sentiamo Valeria Farina. Colpi di fucile rimbombanti e forti che risuonano nell'intera vallata così come ogni anno a inizio la festa di San Nicola a San Giuliano del Sannio patrono del paese. Tutto questo è tradizione e rito vissuto nel ricordo anche dei tanti san giulianesi che emigrarono in America dell'Ottocento una festa trasversale che abbraccia il tutto di San Nicola che sfila in processione per le strade del paese seguito dai cittadini e dal sindaco che a spalla porta due bandiere che ricordano la guerra americana tra nordisti e suddisti del 1861 durante la quale tanti emigranti di San Giuliano persero la vita suggestivi e attesi fucilieri che con le loro armi rendono onore al santo con un picchetto che sa di storia di fede e suggestione oltre alla processione altro momento solenne è la messa durante la quale il sindaco e alcuni cittadini offrono a San Nicola cera e incenso come simbolo di fede amore e devozione la festa è promossa e curata in ogni sua sfaccettatura dall'associazione comitato San Nicola dall'associazione ai fucilieri di San Giuliano del Sagno e dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di rilanciare la festa in onore del patrono San Pietro Celestino per il 19 maggio prossimo a Diserne è stata organizzata un'escursione alla riscoperta del patrimonio ambientale e dei luoghi di interesse storico ed artistico della periferia della città i dettagli della manifestazione sono stati illustrati in conferenza stampa Sergio Di Vincenzo Il Cammino Celeste organizzato dal comitato CamTour in collaborazione con diverse associazioni locali nasce con l'obiettivo di far riscoprire le bellezze naturalistiche la storia e tanti tesori nascosti di Isernia la data scelta non è casuale il 19 maggio giorno in cui si festeggia il patrono San Pietro Celestino i dettagli dell'escursione sono stati illustrati durante una conferenza stampa organizzata nella sede del CONI abbiamo programmato calendarizzato una serie di eventi turistici ambientali e culturali per rilanciare il territorio della provincia di Isernia ma del Molise in generale è un evento aperto a tutti lo dico con molta con molta sincerità insomma tranquillità il 19 maggio che è il patrono di Isernia sono tutti invitati a partecipare ad una manifestazione una passeggiata una passeggiata che riscoprirà angoli dimenticati anche della città di Isernia naturalistici culturali gastronomici e ci sarà anche il prezzo da pagare di 5 euro credo che sia abbastanza accessibile a tutti ed è importante soprattutto perché bisogna riscoprire riscoprire ciò che abbiamo perché ce l'abbiamo l'abbiamo sotto casa e spesso ci dimentichiamo di questi posti di questi luoghi l'itinerario proposto dagli organizzatori permetterà nell'arco della giornata di ammirare non solo la natura e l'ambiente ma anche di riscoprire luoghi per lo più dimenticati a pochi passi dal centro cittadino nel mezzo anche un appuntamento gastronomico si parte dalla villa comunale lato cinema Lumière quindi ci sarà una registrazione ore 9 sono circa 6-7 chilometri ma non vi spaventate perché si farà tappe la mattina è dedicata più all'itinerario naturalistico la scoperta della pineta di luoghi naturalistici nel pomeriggio invece risalendo dal fiume dagli orti faremo una piccola sosta pranzo e poi il pomeriggio sarà dedicato all'aspetto invece più culturale religioso un trionfo tutto al femminile 8 alunne della classe quarta del liceo musicale Galanti di Campobasso coordinate dal professore Domenico Zingaro hanno conquistato il primo posto al concorso nazionale donne e ricerca in fisica stereotipi e pregiudizi organizzato dall'istituto nazionale di fisica nucleare dal consiglio nazionale delle ricerche la premiazione a Roma nella sede del CNR circa 120 le classi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno partecipato alla prima giornata italiana sulle questioni di genere sulla ricerca scientifica in fisica settore da sempre caratterizzato da una bassa presenza di donne ricercatrici il glaucoma è una malattia che colpisce sempre più persone ne abbiamo parlato con l'oculista Francesco Laurelli intervistato da Antonio Di Lallo Dottor Francesco Laurelli il glaucoma è una malattia che purtroppo è molto molto diffusa è una malattia diffusa e direi anche abbastanza subdola perché è una malattia degli occhi che se non curata porta negli anni alla cecità lo chiamano il killer silenzioso della vista perché il paziente con malattia glaucomatosa quindi con pressione alta agli occhi anche se è un modo semplicissimo di definirla è un paziente che non avverte nessun fastidio non avverte nulla quando comincia ad avvertire i primi fastidi è tardi perché vuol dire che il suo nervo ottico è già molto sofferente ha perso già parte del campo visivo che cosa si può fare? è una malattia che se diagnosticata in tempi rapidi utili può essere efficacemente curata la cura più frequente che si utilizza anche quella più semplice è una cura con una base di colliri che abbassano la pressione endoculare quindi riportano il valore alla normalità voglio ricordare che la pressione endoculare ritenuta normale oggi è fino a 18 mm di mercurio oltre questo valore ormai tutte le associazioni internazionali di oculisti ritengono che la malattia vada curata la cura più semplice ripeto è quella a base di colliri questi ne sono di molti tipi con varie efficace e alcuni anche con degli effetti collaterali però normalmente in un 70% dei casi circa il collirio risolve il problema quando il collirio non risolve il problema o perché è diventato insufficiente o perché non funziona dall'inizio ci sono terapie alternative una terapia molto efficace che stiamo attuando da poco è quella con un laser che si chiama SLT un laser molto sofisticato che permette con un trattamento di massimo due sedute tre sedute di normalizzare la pressione al paziente senza nessun effetto collaterale quando il laser fallisce sono i casi più gravi sono i cosiddetti glaucomi maligni tra virgolette è necessario l'intervento chirurgico che ha il nome di trabecolectomia che risolve definitivamente il problema comunque per evitare tutto questo un controllo alla pressione degli occhi il controllo alla pressione è indispensabile io direi che tutti i pazienti dopo i 40 anni così come le donne fanno la mammografia dovrebbero misurare uomini e donne naturalmente la pressione endoculare perché noi ormai lo facciamo di routine da molti anni quando facciamo le visite oculiste che misuriamo sempre la pressione al paziente e spesso troviamo dei valori elevati senza che il paziente abbia nessun sintomo quindi misurare la pressione una volta all'anno dopo i 40 anni è fondamentale se poi si sono avuti in famiglia casi di genitori o parenti con malattia glaucomatosa il controllo va fatto molto precocemente e molto frequentemente perché la malattia può insorgere in qualsiasi momento ed è tutto anche per quest'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi cordiale buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti